Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Questo è un video per salutare il mio pubblico italiano, perché nel tempo ho ricevuto qualche commento, qualche richiesta di persone che mi domandavano se davvero fossi italiano. Ebbene sì, sono italiano, di dove si dovrebbe capire abbastanza bene, io do pal ai miei honey, non abito più in Italia da diverso tempo e quando ho deciso di iniziare questa piccola avventura amatoriale su YouTube ho deciso di scegliere la lingua inglese unicamente perché mi permette di raggiungere un pubblico più vasto, niente di personale. Ho anche pensato a un certo punto di realizzare i video in doppia lingua o magari doppiarli. Il problema fondamentale è che richiede un sacco di tempo, ho anche provato a doppiare uno dei miei video e onestamente il processo di ascoltarsi, capirsi, tradursi e doppiarsi tutto allo stesso tempo è molto difficile, non per nulla i doppiatori sono professionisti e richiede un sacco di tempo. Ora, il punto è che i video sul mio canale al momento fanno tipo 20 visualizzazioni al giorno, per cui preferisco investire questo tempo magari in fare altri video in inglese invece di fare video in doppia lingua eccetera, che poi comunque sarebbe difficile perché i miei video non sono preparati, sono praticamente registrati ma sono fatti in diretta, succede una cosa, succede una volta, non è che posso tornare indietro e rompere la scheda di nuovo per far vedere che la riparo in una lingua differente. Non sono Derbauer che è un famoso youtuber tedesco che ha un canale di componentistica per computer, recensioni o test e cose del genere, lui ha un canale in inglese e un canale in tedesco ma viaggia su numeri completamente diversi. All'ogni modo, diciamo il progetto della doppia lingua sta là, magari un giorno ci arriverò per ora, spero che riusciate a seguire il mio canale, a capirmi nonostante ovviamente l'accento e nel caso so che YouTube ha una possibilità di impostare dei sottotitoli automatici che ovviamente non saranno mai perfetti, uno perché sono automatici, due perché appunto la mia, i miei video non sono preparati quindi non faccio, a volte faccio delle frasi che non finiscono nessuna parte e terzo ovviamente per l'accento che, insomma, per una traduzione automatica non aiuta mai. In ogni caso niente, volevo soltanto salutarvi tutti e anche mandare un messaggio a Marco Valleggi di MWVblog e fargli sapere che c'è un altro concorrente nel pollaio, anche se onestamente le bischerate megagalattiche che si inventa Marco Valleggi a me non passano neanche nell'anticamera del cervello, per cui direi che può stare molto tranquillo. È giusto per mettere i puntini sulle i, chiariamo bene, non sono pisano. Dai, allora spero di vedervi presto, lasciate dei commenti, fatevi sentire, facciamo tanto rumore, leggerò tutti i commenti e risponderò a tutti. Spero di vedervi qui, numerosi, al più presto per i prossimi video, fatemi sapere cosa pensate del canale, cosa pensate dei miei video. E niente, vi auguro buona giornata e a presto. Ciao!